Ragazzi, rieccoci, vi ero mancato? No, fa niente, a me sì, mi siete mancati, mi è mancato parlare di calcio, sapete che è una fase della mia vita un po' particolare, ma tranquilli che quando ci sono le partite, adesso ci sarà anche la Champions, c'è la Lazio questa sera, quindi vi do appuntamento tra circa due ore e mezza per il post partito di Sassuolo Lazio, io per ora sono qua a parlare del football. Signori, oggi due trasferte difficili teoricamente per Napoli e Inter, non ho visto il Napoli, comunque ha vinto 3-1 e sono d'accordo con le parole di Garzia ieri che non ho commentato, secondo me si è fatto veramente troppo rumore per questo Napoli che è in difficoltà, ha giocato malissimo con la Fiorentina, magari non vincerà lo Scudetto, a parte che a Napoli lo Scudetto, voglio dire, hanno vinti tre, non è che si vince tutti gli anni, ma non diamo per morti i partiti europei, soprattutto vi ho detto Garzia, non ritiro quello che ho detto, secondo me è un ottimo allenatore, che ha una filosofia diversa, ma è uno pragmatico e comunque anche nelle difficoltà le spalle larghe, l'ha dimostrato, il Napoli verrà fuori e poi è l'inclassifico, non è che è lontano 20 punti. Comunque, ho visto l'Inter che sbanca l'Olimpico Grande Torino, partiamo dai padroni di casa che hanno fatto un primo tempo discreto, bella parata di Sommer su Sec, su Pellegri Sommer è un signore, è un signore dei portieri. Poi, io lo dico sempre, non è un fenomeno perché gli manca quei 5 cm per esserlo, perché il portiere ai tempi moderni deve essere almeno 1,90, ecco, però signori Sommer è veramente bello vederlo parare, è efficace, non è plateale, è sempre molto, anche lui, costante nelle prestazioni, è concreto. L'unico errore, possiamo constatarlo, è stato quello nella partita nefasta col Sassuolo, però diciamo che ci sta nell'arco di ormai gioco a 15 anni di partite, da qua all'inizio del campionato, ecco. E niente, il Torino, ragazzi, pochissima roba, secondo me, questa squadra qua, sì, ha speso queste state Caio, io ne parlo sempre con i miei amici Granata, però capisci che il Torino ha preso Zapata, che per me è un ex giocatore. Infatti, ha fatto un gol su una pallina attiva, adesso addirittura è rotto, sì, poi è solo un acciacco, ma vedete che Zapata sarà più fuori che in campo. Poi, Pellegri, lasciamo perdere, a parte che è scarso, ma non è un giocatore di calcio. L'unico buono, Sanabria, addirittura, l'anno scorso, il migliore della tua stagione, l'hai declassato per far giocare Zapata. Cioè, quello l'autogol, è inutile che tu mi prendi Zapata e mi vai a declassare Sanabria, che era il tuo miglior giocatore, non solo dal punto di vista dei gol, che ne ha fatti i dodici, ma proprio come regista offensivo. Poi, Vlasic, non si può vedere, ma non è che do colpa a Cairo lì, perché Vlasic, per me, è un ottimo giocatore, non c'è. Sec, lascio ma perdi, ha fatto un bel tiro nel primo tempo, ma, signore, poca roba. Io non posso vedere il centrocampo, Bella Nova, che io li voglio bene, ma mi sto accorgendo che io ho fiducia in questo ragazzo, ma è ancora lontano da essere un'ala di qualità. Ricci, che anche lui è un po' in difficoltà, Linetti, cioè, Linetti andava di moda con Gianpaolo 6-7 anni fa la Sampdoria, basta. E Lazzaro, che è uno scarto, gli scarti dell'Inter, che poi Lazzaro, siccome è ingranata, non ha fatto male. Però, c'è poca qualità. Cioè, il Torino, sì, ti fa giocare male, però alla lunga, tanto non segna. Il gol lo prende, perché ha un citofono in porta. Io, fino ad un anno fa, Milinkovic, un po' lo difendevo, ma, c'è, il primo gol. Cioè, ragazzi, se non prendi quel gol lì, allora cambia sport. Cioè, posso capire un portiere di serie C, di serie B, forse che non prende quei tiri lì. Ma un portiere di A, alto 2 metri, li deve prendere. Magari poi la Tokyo va dentro, poi ce li deve arrivare. Con la Juve lasciamo perdere, sapete benissimo cosa ha combinato. Comunque, dopo un primo tempo faticoso, molto meglio comunque il Toro nella prima frazione, però gli manca sempre la stoccata. È una squadra apatica in fase offensiva, come già vi ho raccontato. L'Inter è venuta fuori, grazie comunque ai cambi di Inzaghi, che li ha fatti prima, stavolta. Vedete, al 57esimo, Carlos Augusto, Danfries, frattesi. Non a caso, lì la fascia destra è diventata territorio nero-azzurro. Danfries, bellissima palla per Turam. Danfries quest'anno, chi l'ha preso al Fanta, gode come un riccio, perché è qualcosa di fantasmagorico. Palla indietro per Turam, difesa troppo schiacciata verso la porta di Vania, quella del Torino. E Turam, lì, come vi ho detto, praticamente incrocia la palla, però non la pesa neanche benissimo. Secondo me lì, ripeto, Vania poteva fare di più. Non è una papra calamorosa, però siamo sempre lì. Cioè, sei il portiere del Toro, quindi ogni tanto qualche prodezza, tra virgolette, la devi pur fare. Nove minuti dopo, praticamente, il raddoppio dal calcio d'angolo, classico angolo battuto sul primo palo. A Cervi che la spizza, quindi aveva fatto gol anche in quel modo lì, il suo primo gol con la maglia nera-azzurra quest'anno. Col Bologna l'ha fatto, sì. La spizza stavolta per Lautaro, che di spalla, praticamente, no? Non so se giocavate olandese al campetto, spallina, valeva meno nove da noi o meno sette. E fa gol 2-0, e lì la partita è finita. Tardivi, poi Cambi, Ginetti, Sanabria, Ilic, poi Vodemort. Ormai il Torino, veramente, non aveva più nulla da dire. Ed è una squadra che, comunque, quando va sotto, difficile che recuperi. Proprio per gli motivi che vi ho sciorinato. Addirittura arriva al 3-0 di Ciala, su rigore, che, comunque, certifica una prestazione solida del giocatore turco. È entrato Bissek, notizione, anche lì, ecco, Inzaghi. È un po' di coraggio, sto Bissek. E falli fare dieci minuti, perché sembra una presa in giro farlo entrare al 92esimo. Però è un giocatore che, piano piano, verrà fuori. Quindi, Inter brutta, possiamo dirlo, ma concreta. Ciò che, magari, non era stato l'anno scorso. Quindi, questo è un segnale per lo Scudetto. E, per me, i nerazzuri rimangono, comunque, i favoriti per il titolo. Ok? Io sul carro ci resto sempre. Stasera c'è la Lazio. Chelsea vince con l'Arsen. Ah, attenzione. Stavo vedendo, anche, un po' di Real-Siviglia. Siviglia se la sta giostrando alla grande. Real continua. Ah, cazzo, ha segnato Siviglia. Continua a non convincere. Mi stavo dicendo, autogol di Alaba. Ho detto, si è segnato Ramos, viene giù allo stadio. Signori, like, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram. Ciao.